Era la notte del 14 novembre scorso quando il ristorante L'Antica Fonte di Via Portabuia era stato svaliggiato da due ladri che dopo aver forzato la porta sul retro erano riusciti a darsi alla fuga con alcune bottiglie di vino, un televisore ed un registratore di cassa contenente qualche centinaio di euro. Adesso i responsabili del ride notturno sono stati individuati dalla squadra mobile della questura di Arezzo. Con tutta probabilità la banda era la stessa che aveva colpito in altri ristoranti e locali aretini. I malviventi infatti sarebbero gli stessi che la scorsa settimana avevano messo a segno anche altri furti a Saione. Le indagini della Polizia di Stato erano partite subito dopo il colpo. Grazie ai filmati delle telecamere di video sorveglianza interna e a quelle del comune che si trovano vicino al parcheggio Ex Cadorna, gli inquirenti adesso sono riusciti ad identificare i malviventi. Si tratta di due cittadini marocchini attualmente già sottoposti a misure cautelari per altri furti commessi sempre ai danni di altre attività del centro. I due banditi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e adesso dovranno rispondere anche per questo episodio delittuoso. Continuano infine gli accertamenti investigativi anche sugli altri furti commessi recentemente sempre ai danni di altre attività commerciali.